E' un 21enne della provincia di Lucca, Simone Bertoncini, la vittima dell'incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio lungo la provinciale della Val del Riso, tra Cantoni Doneta e il Passo di Zambla. Lungo la provinciale era in allestimento la gara di moto velocità in salita, in programma oggi e domani. Il giovane, iscritto ad un motoclub toscano, avrebbe dovuto parteciparvi. L'incidente è avvenuto poco dopo le 17. Simone Bertoncini stava salendo verso il Passo di Zambla alla guida di una moto Aprilia 250, quando si è scontrato frontalmente con un'altra moto da gara, una Yamaha marchiata con il numero 681, guidata da un 36enne residente in provincia di Vicenza. L'impatto è stato molto violento e fatale al 21enne, mentre il 36enne è stato soccorso con l'eliambulanza e portato agli ospedali riuniti di Bergamo, dove i medici si sono riservati da prognosi. L'incidente è avvenuto mentre gli organizzatori del Memorial Fausto Ducci stavano ancora predisponendo lungo il tracciato i sacchi di paglia di sicurezza e la strada era aperta al traffico regolarmente.